Benissimo, allora, fino adesso abbiamo fatto la cosa più semplice, tra virgolette più pratica, no? Però adesso andiamo a fare l'evoluzione, l'evoluzione potrebbe essere questa, no? Porto a muro, lo stiamo facendo piano, e dopodiché, metti la mano giù per favore, ok, porto a muro, faccio questo, tengo con la testa e gli tengo la mano, lo colpisco, prendo la testa, cerco di spaccargli la testa contro il muro, comunque lo tengo schiacciato, ecco, naturalmente non si può evidenziare tutti i tipi di blocchi e cose, però questo potrebbe essere un'idea, me lo fai per favore, ok, ci siamo, perfetto, non tirare la verso di te, ma, ah ok, per esempio, perché mi vuoi bloccare, no? Allora, in questa situazione cosa andare a fare? In questa situazione molto semplicemente si fa un'operazione che è questa, allora, da qua, vai, da qua, vedete? Io riesco a liberarmi perché la mano ha una presa e il pollice e l'indice non riescono a chiudere il polso, devo uscire da quella parte lì, quindi cosa devo andare a fare? Tieni, ok, stessa cosa, entro e ruoto e faccio questo, poche parole, se io tentassi di fare questo e di fare questo, non vado a nessuna parte, se io faccio questo riesco a liberarmi, cioè esco dalla parte opposta e faccio lo stesso, non mi tenere, faccio lo stesso concetto, infilo, porto il braccio verso l'apertura della mano, quindi tra l'indice e il pollice, entro e ruoto con la spalla al contrario, che è questo, e mi vado a mettere in posizione per lavorare sull'aggressore, adesso è inutile che ci mettiamo a fare pugni e calci, cosa fare, cosa non fare, perché poi quello dipende dalla preparazione di ognuno di noi, più che altro, vieni, più che altro adesso a me preme, farti capire, no, questo, ora piano, se vediamo se hai capito cosa intendevo, vai, vai, benissimo, e non c'è verso, non c'è verso di tenere, il concetto qual è? Vieni qua, perché poi giustamente dicono che si parla troppo, però se non si parla e non si spiega è inutile, fare le cose di violenza, solo per fare sceneggiata, ci sta, però bisogna anche spiegare i concetti. Allora, questa è la presa, ci siamo? Se lui tentasse di far forza con forza, vai dietro, ok, questo, non andremo da nessuna parte, quasi, ci siamo, o meglio, io ho la destra, lui ha la sinistra, quindi la mia mano forte contro la sua mano, che non è quella forte, se invece lui fa un movimento diverso, che lo porta verso il suo collo, che non è neanche questo, ma è questo, vai, prendi, ok, se fai così, io esco di dietro, invece prendi così, ok, vedi che c'è l'apertura? Allora, se io vado a fare questo, guarda, tieni più forte che puoi, ci siamo? Guarda, ci siamo? Quindi, ora tu sei con la sinistra, fallo con la destra e la mia sinistra, stessa cosa, sono qua, tieni più forte che puoi, ci mettiamo, ci giriamo, questo è lo stesso concetto del muro, è che sia ben chiaro, ve lo sto facendo capire, guarda, se io vado a fare questo, tieni, ok, se io vado a fare questo, cominciamo a lottare, lui rinforza con l'altra mano, vai, e devo andare a fare un'altra cosa, che può essere questa, ok, quindi, no, vabbè, ma lasciamo perdere adesso, non era quello il concetto dell'insegnamento di questo, quindi, io vado a fare questo, se proprio vogliamo fare, vedere come ci si libera da questo, si fa questo, e si fa un passaggio e la persona rimane col braccio, diciamo, in posizione disagiata, no, che è questo, vedete, da qua posso andare a fare mille cose, per esempio, ora, stiamo esplodendo in un'altra cosa, uno, che per esempio, una potrebbe essere questa, e si porta a terra la persona e si spacca, ma questo è un altro discorso, quindi, noi, ripeto, contro il muro, e faccio questo, vai, uno, due, tre, e io vado, lui mi sta bloccando, da qua mi può utilizzare lo stesso principio, no, sbattere cose, io personalmente, quando vieni, vai, ok, vado a bloccare, in questa maniera, uno, una bella ginocchiata secca, due, quando sono qua, vado a fare quello che mi viene meglio, tre, per esempio, e spacco, se non ho altre situazioni, se non scappo, benissimo, grazie mille, grazie Fra, per la collaborazione, ciao ragazzi!